Ciao ragazzi, allora voglio approfittare di questo momento di pausa scuola per ripassare un po' di cosette interessanti che abbiamo fatto durante l'anno e su cui magari non vi avevo fatto il video. Così se proprio non avete nulla da fare sdraiati sotto l'ombrellone o su mentre vi camminate su qualche sentiero in montagna potete anche ascoltare e guardare questo video. Il primo che faccio riguarda il tema punto dolente per molti studenti, come diavolo si scrive un tema in modo decente. Allora vi do questa scaletta con le idee centrali, prima cosa da fare leggo il titolo e cerco di capire quello che c'è scritto e soprattutto tiro fuori un po' di idee. Qua vi dice scrivo le parole chiave, le dispongo a grappolo o preparo una scaletta, scegliete un po' quello che volete voi. Io mi trovo molto bene con la scaletta ma ognuno deve prendere quello che preferisce. L'importante è non partire a scrivere il tema immediatamente in bella senza avere la benché minima idea di quello di cui si vuole parlare perché sarebbe come mettersi a costruire una casa senza avere il progetto del geometra, capite che? Oppure mettersi a fare una torta senza aver prima preparato gli ingredienti sul tavolo. A un certo punto scopri che ti servono tre uova e tu in realtà ne hai solo due. Oppure scopri che appunto non hai un ingrediente, scopri che uno è scaduto. Quindi fondamentale è scaletta delle idee. Metto giù e dico ecco voglio parlare di questo, questo, questo. E la scaletta non è scrivere già il tema, è come alcuni fanno. Il bambino andò nel bosco e incontrò il lupo. No, allora incontro del lupo nel bosco, cioè se volete dire quest'idea, ok? Quindi butto giù le idee che voglio, così anche perché vedo quanto mi viene lungo, quante idee ho, se magari c'è qualche parte ripetitiva la tolgo e via dicendo, ok? Solo dopo mi metto a scrivere e naturalmente mi metto a scrivere in brutta, non posso scrivere in bella, ok? Scrivo in brutta, io consiglio sempre scrivete in brutta a computer, così non vi stancate. Potete fare copia, incolla, sistema, tira di qua, togli, rimetti, colora, fate un po' quello che volete voi. Non scrivete a mano, così non vi stancate. Una volta che avete scritto, logicamente lo dovete rileggere e non basta rileggere una volta, ragazzi, perché bisogna controllare un sacco di cose. Le cose da controllare le vediamo dopo, ok? Una volta che ho controllato tutto quello che muovi, faccio vedere, a quel punto posso copiare in bella copia, a quel punto copio a mano, naturalmente, ma io non sono stanco. E' logico che una volta che ho copiato in bella, devo rileggere anche quella, perché qualcosa sfugge sempre. Naturalmente, per fare tutto sto popò di roba, io non lo posso fare in un pomeriggio, ragazzi. Quindi, quando vi viene dato il compito del tema, e avete magari una settimana, dieci giorni di tempo, voi dovete farne un pezzettino per volta. Io il primo giorno mi leggo bene il testo e preparo la scaletta. Stop, finito, dieci minuti, massimo un quarto d'ora di lavoro, e poi vado a farmi un'altra bella materia. Il secondo giorno lo scrivo in brutta, a computer, ok? Certo, è il pezzo più lungo, ci metterò un'ora, un'ora e mezza, va bene. Il giorno dopo rileggo, controllo, sistemo, guardo, eccetera, eccetera. E poi il giorno dopo ancora, e magari l'altro successivo, mi metto a copiare. L'ultimo giorno, prima di presentarlo alla prof, io me lo rileggo e sono sicuro di prendere un bel voto. Attenzione, cosa devo controllare, ragazzi? Una marea di roba. E per quello che vi dico che lo dovete rileggere un po' di volte. Allora, io qui ho orrore, orrori che hanno scritto i miei alunni negli anni, ok? Cosa devo controllare? Devo controllare la punteggiatura, che spesso e volentieri non c'è, non esiste o viene messa a sproposito. Ci sono ragazzi che scrivono interi fogli di protocollo senza mettere dentro un punto. Ragazzi, soprattutto il punto, fermo. 3, 4, massimo 5 righe. Poi punto, stop. Vado a capo e riparto con un altro pensiero. Poi non solo il punto, eh? Le virgole, i due punti. Io qui avevo preso appunto degli orrori e facevo correggere ai miei alunni quello che non andava bene. Poi cosa vado a vedere? Vado a vedere, ad esempio, la morfosintassi. Cioè, il modo corretto di mettere insieme le parole all'interno di una frase. Vi faccio, per esempio, vi leggo questa. La fata si diresse verso il labirinto con il tabacchino. Videro l'idra. Allora, qui c'è qualcosa che non va, perché il soggetto è la fata singolare. Ok? Non posso dire videro. O metto i due videro, oppure vide. Quindi non posso mettere un soggetto singolare con un verbo plurale. Ok? Oppure questo classico, eh? Lei era bella e ricca, suo padre gli disse che prima o poi. Sempre lo fate, sempre, ragazzi. Gli è per i maschi, non è per le femmine. Le disse. Questo è un errore di morfosintatti. Oppure ancora, non so, ritornò là, ma a suo stupore, vide la bottega distrutta, a suo stupore. Buah, ragazzi, non so cosa bevete o fumate prima di scrivere un tema. Comunque, questi sono gli errori che si deve andare a ricontrollare. Verbi, agogo, naturalmente. Ok? Perché generalmente in un testo io ho gente che parte col presente, poi prosegue col passato remoto, poi va il futuro, e poi il congiuntivo, il condizionale, li facciamo passare tutti così non si offende nessuno, è vero? Però, eh, però non va bene. Ragazzi, anche qui ci sono un po' di esempi di orrori verbali, ok? Guardate questo. Mentre il minotauro si era spaccato la gamba ed è morto. Capite che qui c'è qualcosa che non va nei tempi verbali. Suo padre le disse che prima o poi doveva sposare un principe. Lei non volle e allora scappò nel bosco. Qui non mi ricordo cosa c'è che non funziona. Suo padre le disse che prima o poi... Ah sì, scusatemi, doveva sposare, questo deve diventare un... Avrebbe dovuto sposare un principe, ok? Lei non volle e scappò. Poi cosa vado a ricontrollare quando rileggo? Il lessico. Per lessico intendiamo termini spesso usati in maniera inappropriata o ripetizioni a go-go. Quando ho le ripetizioni, una delle due le devo togliere, oppure devo trovare dei sinonimi, o se proprio non ce la faccio, riformulo la frase, la cambio, ma non lascio la stessa parola due volte a breve distanza, ok? Qui ancora cosa abbiamo? Vediamo un po'. La ragazza contenta andò per la strada mostrata. Vabbè, per la strada che le era stata mostrata, ma non andò per la strada, si incamminò lungo la strada, lungo la via, ok? Oppure abbiamo l'esposizione confusa, contenuto che magari va anche bene, ma è esposto in modo corretto. E quindi, anche qui, bisogna stare attenti. Vediamo, ma lontano da lì, intanto, in un paesino, un bellissimo giovane di nome Angelino, un uomo forte e coraggioso, e non aveva paura di niente. Ditemi voi cosa vuol dire questa roba qua. non ha un senso logico, ok? E questa roba, se non puoi, non vedere che non va bene quando rileggi. E disse che chiunque osava battersi alle giostre di Zuma poteva sposare la principessa solo uccidendo cento cadaveri, cavalieri, scusate. Anche qui vedete che il senso, insomma, è un po' difficile da trovare. Per quello che, ragazzi, dico, voi rileggete la brutta, concentrandovi ogni volta su una cosa diversa, perché tutte queste cose insieme non riuscite a controllarle, ok? Non riesco io, che sono un'insegnante, magari devo rileggere più volte, controllare, quindi voi vi dovete concentrare. Dice, adesso rileggo e guardo la punteggiatura. Adesso rileggo e guardo il lessico. Adesso rileggo e guardo i verdi, ok? Poi, magari, faremo anche un discorsetto sui connettivi, ma quello li vediamo un'altra volta. Vi saluto, ragazzi. Alla prossima. Arrivederci a tutti. Alla prossima.